Il vento Beh, immagini meravigliose Il mare strepitoso E mi dicevi che tu ti sei immerso in quelle acque Sì, mi sono immerso in un'isola bellissima anche fuori dall'acqua Queste montagne vulcaniche, una vegetazione fortissima, piove molto E poi sott'acqua, vabbè, l'oceano indiano è ricco di pesce, di animali E ho fatto uno stage, ci sono anche molti squali tra l'altro E molto bello, una bella esperienza Beh, lo immagino Senti, ma a proposito di immersione Che sensazioni? Mi rendo conto che chiedere questo a un apneista può sembrare banale Però mi piacerebbe proprio che tu condividessi Perché io lo so, perché appunto anche io e te abbiamo fatto un'immersione E mi hai detto delle cose Però le sensazioni sia fisiche che psicologiche che emotive Che tu hai prima e durante il tuffo, no? Così si chiama quando un apneista si immerge Ma guarda, quello è il motivo per cui ho iniziato ad andare sott'acqua A fare apnea E ormai ho smesso da più di vent'anni con le gare E continuo ad andare sott'acqua per quel motivo Per questo aspetto dell'apnea Quando vai sott'acqua hai una percezione molto particolare del tuo corpo È difficile a volte da descrivere Scendi e ti rendi conto, soprattutto se scendi con delle zavorre Che ti spingono, quindi non fai sforzo Vai e senti che piano piano il tuo corpo tende a scomparire E alla fine, da un certo punto in poi, da certe profondità in poi Quello che io avverto fisicamente è solo la testa Cioè il mio corpo è questa palla Sparisce nell'acqua Sì, senti lì il battito cardiaco che è molto forte Abbiamo delle barri di cardia incredibili Abbiamo 10, 12, 15 battiti al minuto Quindi il cuore batte molto lentamente Perché giustamente il nostro corpo Che è una macchina perfetta Dice non arriva ossigeno Perché in apnea non respiriamo Allora il poco ossigeno che abbiamo Lo distribuiamo il più lentamente possibile Questo è tipico di tutti i mammiferi marini E qui il cuore lo senti nella testa Poi scendi, aumenta la pressione Devi compensare Quindi devi portare il timpano in posizione neutra La pressione te lo spinge verso l'interno Anche lì questo lo avverti nella testa E quindi arrivi sul fondo Ci sei tu con la tua testa E nel momento in cui ricominci a salire Senti che questo corpo riappare molto progressivamente È bello questa sensazione, questo viaggio E quando arrivi fuori Il primo respiro che fai Ha un sapore molto particolare Enzo Maiorca Il grande Enzo Maiorca Scriveva in un suo libro Credo a capofitto nel Turchino Diceva Io non mi ricordo il primo respiro che ho fatto Quando sono venuto al mondo Dopo nove mesi di vita acquatica Però tra quel respiro E il primo respiro che fai Uscendo da queste profondità importanti C'è sicuramente qualche cosa di comune Perché quel respiro Rappresenta il passaggio Tra un mondo acquatica Una sensibilità acquatica E il mondo da terrestre Per cui siamo stati creati È molto bello questo passaggio Ecco intanto stiamo vedendo delle immagini Strepitose di Umberto Queste sono state fatte Stai nuotando Queste sono nell'oceano indiano Nelle immagini prima Con i capodogli E questo è uno squalo balena Questo è uno squalo balena Anche quello è l'indiano Ero alle Maldive In quelle situazioni È bello Bellissimo C'è il pubblico che sento Che non so se sono sospiri Di terrore o di ammirazione No lo squalo balena Ammirazione Ammirazione 20 metri lo squalo balena Sì eravamo sui 20 metri Eh dai Cosa vuoi che siano 20 metri sotto un pesce Va bene Allora caro Umberto Per non lasciarti tutto solo Perché sai che io ti voglio bene E non voglio che tu ti senta solo In questa avventura televisiva Insieme a me questa sera Abbiamo deciso di chiamare La tua omologa femminile Sei pronto? Prontissimo Campionessa del mondo Più e più titoli svariate Come si chiamano le diverse Categorie Discipline Ragazza meravigliosa Strepitosa Felicissima che sia Anche lei questa sera Nostra compagna di viaggio Per tutta la puntata Alessia Zecchini Balletto anche con Alessia Di turchese vestita Buonasera buonasera madame Allora ben arrivata Alessia Allora bronzatissima Giustamente siamo in estate Ed è giusto così Dunque Alessia Devo dirlo L'ultima volta che ci siamo viste Alessia era un po' Abbattuta Abbacchiata Perché insomma Non era riuscita A ottenere il risultato Che si era prefissa Invece adesso Alessia Eh mo Cosa facciamo Cioè niente Sta vincendo Tutto In tutte le categorie Sta sfondando Ogni record Complimenti Quindi Voglio sapere tutto Che record Come Quando Dove Perché Con chi Adesso sono felicissima Rispetto a ottobre Molto di più Perché ho raggiunto Appunto due obiettivi Che mi ero prefissata Da tanto tempo Il primo a marzo Con la misura di Prima 107 E poi 109 metri Ho fatto il record Del mondo Con le due pinne A Mall Ball Ecco E l'ultimo è stato Un tuffo Veramente sognato Desiderato tantissimo Studiato nei minimi dettagli Con la monopinna A 123 metri 123 metri Signori Pensa che c'è No ma Dico ai signori Perché magari c'è Chi fa fatica Ad andare Se ti dici Vai a prendere Il latte Quanto è distante 200 metri 150 No Non c'ho voglia Ecco Lei li fa in verticale All'ingiuvedia Ma poi soprattutto Devi risalire Da 123 metri Che così Non è proprio Quindi stiamo parlando Di 246 Ho fatto la matematica giusta Ecco No meno male Che io in matematica Guardate Questo è il La risalita Questo è l'ultimo È l'ultimo record Allora Questi sono sempre I momenti più emozionanti Quando voi dovete aspettare Non so quanti secondi Fare il cenno E da lì Viene registrato il record Corretto Assolutamente Perché non devi perdere i sensi No assolutamente Devi fare il protocollo In un determinato tempo Prestabilito E se superi il tempo Le labbra vengono bagnate all'acqua Il tuffo è nullo Quindi bisogna essere Super concentrati Fino alla fine Fino alla fine Allora Umberto Diciamo Non voglio dire Che tu sei Più Anzianotto No no Voglio dire Che tu Hai avuto peraltro Un grandissimo maestro Ecco Però voglio Voglio sapere È cambiato il modo Di fare apnea Della nuova generazione? Sì È cambiato il modo Di fare apnea Oggi relativamente all'apnea Conosciamo molto più cose La compensazione Per esempio Quando scendi E devi riportare il timpano In posizione neutra Altrimenti te lo sfondi Per la pressione dell'acqua Io all'epoca Mi ricordo Andavo istintivamente Cercavo di fare qualcosa Ma non sapevo Cosa meccanicamente Mi stava succedendo Nessuno lo sapeva Quindi io Mi rilassavo molto E cercavo di portare Il mio corpo Sempre più giù Oggi conosciamo Quindi cos'è La compensazione È stata Tra virgolette Sdoganata Ecco E si conoscono Meglio le tecniche Di preparazione fisica Fuori dall'acqua Ci sono preparatori atletici Tutti i grandi atleti Come lei Si hanno uno staff Di preparatori Mental trainer E quindi Sono atleti A 360 gradi E riescono a Portare queste performance Veramente al limite Tra l'altro Lei è Come dire Io la apprezzo molto Non tanto per la Come dire Per la performance Che è assolutamente Incredibile Ma anche per la facilità Con cui riesce a portare A termine Le sue performance L'eleganza Che ha sott'acqua Che secondo me È assolutamente unica Attualmente Nel panorama mondiale Sott'acqua e fuori dall'acqua Che insomma Mi sembra una donna Estremamente elegante Alessia Umberto Ha avuto Il grandissimo Jacques Maiol Come uno Dei suoi grandi Tutori maestri Chi Chi sono stati I tuoi maestri E che cosa Hai imparato E tieni Diciamo Del retaggio Della tradizione Della apnea Della vecchia scuola Chiamiamola così Beh diciamo Che ho ammirato Tantissimo Umberto E per me Un idolo È sempre stata Natalia Molcianova Che era una donna Che deteneva tutti i record È scomparsa da qualche anno E proprio perché appunto Ha sempre fatto tutte le discipline Per me è stato un esempio Però sono stata molto fortunata Perché nel corso della mia vita Ho conosciuto persone Che mi hanno veramente Donato tantissimo E grazie a loro Che ho cambiato Il mio modo di fare apnea E sono Mi sono innamorata Sempre di più del mare Senti all'inizio della puntata Abbiamo parlato di Limiti No abbiamo detto Parleremo di limiti Allora chiedo a tutti e due Perché credo che la parola Limite Per voi Come perché scala Le montagne Faccio l'esempio di Hervé Barmas Che è un amico Che salutiamo peraltro Ma è fondamentale Lui dice Conoscere il proprio limite Quando si scala È fondamentale Allora immagino Che sia altrettanto importante Quando si va giù Perché giustamente Prima Umberto diceva Sì poi attenzione Bisogna risalire Quindi come si riconoscono I propri limiti E come si sa Quando si è in grado Di superarli O quando è il caso Di fermarsi Beh innanzitutto Parto con una frase Che mi ha detto Gianfranco Il mio attuale allenatore Il limite sei tu Quando avevamo iniziato La nostra collaborazione Effettivamente è vero Il limite Ce lo poniamo noi stessi E è proprio cercando Di migliorare Ogni piccolo aspetto Che se veramente vuoi Puoi migliorarti L'apnea ovviamente Uscire bene da ogni tuffo Ti permette di capire Che puoi aggiungere Quel metro in più Tenendo sempre in considerazione Che facciamo uno sport Estremo No In mare Quindi le condizioni Scusa È estremo Sbagli di un metro No Ma vedi Un metro può essere Noi immaginiamo Il limite da spostare In una performance estrema Diciamo così Associiamo l'apnea Come al mare L'impossibile L'impossibilità a respirare Quando noi siamo nati Qualche milione di anni fa Non lo so Noi ci muoviamo sugli alberi Però proprio per questo Quest'istinto Che abbiamo avuto da sempre Abbiamo deciso di affrontare I rischi che camminare per terra Poteva portare E se oggi usiamo delle telecamere Dei televisori Degli aerei Dei telefoni È perché l'uomo ha deciso Che non poteva accontentarsi Di qualcosa E questo fa parte Della nostra vita Tendenzialmente Siamo portati a pensare Al no limits Ai nostri sport Però fa parte Della quotidianità Assolutamente Il filosofo Adler Riconosceva Quello che tu stai dicendo In un'aspirazione Alla superiorità Non superiorità Rispetto a qualcun altro Rispetto al tuo limite Al miglioramento Allora Questo è solo l'inizio Della puntata Sono solo l'inizio Delle chiacchiere Giusto per farvi capire Il livello di profondità Così Allora Io Vi ringrazio Di questo primo giro Vi invito a sedervi Sulla panca Prego Ragazzi Andate a sedervi